Rappresento io la Sartoria Ragusa qui a Messina in via, non so dov'è, dove siamo? Via, c'è una Caterina, la titolare che non vuol venire, Caterina vieni qua, Caterina qui, Caterina qui Qui altro che mi sposo a tv, qui siamo di più, mi sposo se sente il Marcorezzi Noi siamo a Messina, qui è il mio Bixio 74-76 Meraviglioso L'atelier è suo al primo piano per quanto riguarda la sposa, per lo sposto vi spettiamo giù Ragazzi, tra l'altro Sartoria storica del 1961 Siamo la terza generazione Esatto, non so se vi spiego E poi oltretutto è l'atelier autorizzato Stefano Blandeleone per Messina Quindi siamo alla grande, direi alla grande Vi aspettiamo ragazzi Vi aspettiamo numerose allora, un abbraccio, ciao 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 ciao